Ciao, sono Marco Gambella, autore del sito trattamentoemozionale.it e operatorio olistico. La rabbia è un'irritazione del sistema emozionale che scaturisce da ostilità, contrarietà, offese da parte di qualcuno o qualcosa. E' interessante soffermarsi per capire da dove proviene questo tipo di reazione, la quale è la causa di forti conflitti con la famiglia, con il partner, con le persone circostanti, con i vicini di casa, con gli amici e con tutti quelli che fanno parte delle interazioni sociali. Però prima di parlare della rabbia, è ovvio sia necessario fare una piccola introduzione per capire il sistema emozionale chiamato nella nostra piccola serie di video, anima animale. Quindi per non ripetere sempre la stessa cosa, il sistema emozionale non è altro che un campo elettromagnetico che con le sue onde sottopone tutta la fisiologia del corpo umano alla sua forza. Quindi come specificato negli scorsi video, il sistema emozionale o l'anima animale si divide in chakra, meridiani e poli maggiori e la combinazione dei blocchi tra di loro provoca conflitti emozionali o blocchi emozionali. Quindi questi conflitti si condensano, non lasciano fluire l'energia vitale attraverso il sistema emozionale e la persona si ritrova senza energie o senza forza per perseguire i suoi obiettivi o le sue attività. Quindi facciamo un piccolo esempio, se un individuo che ha contratto un conflitto della rabbia nel suo sistema emozionale cerca di insegnare di suonare uno strumento musicale, la sua impazienza gli provocherà un conflitto tale che non riesce ad andare avanti nel suo insegnamento perché la scarica della sua rabbia lo esaurirà energeticamente o lo porterà a una tensione tale che non riesce più a esprimersi e dovrà abbandonare il suo obiettivo di dover insegnare. È vero anche che il conflitto si divide in due specifici blocchi che sono o il blocco per tensione o il blocco per esaurimento. Nel video sull'autostima abbiamo visto che cosa sono i meridiani, quindi nel caso ancora non abbiate un'idea chiara di cosa siano i meridiani vi invito a visionare il video sull'autostima. Abbiamo però capito che la dissonanza tra chakra e meridiani provoca un conflitto, quello che generalmente o semplicemente chiamiamo fastidio quando viene presentato in forma semplice e lieve e quello che chiamiamo trauma quando lo presentiamo in forma grave. Quindi anche se può sembrare impossibile, in realtà nessuna terza persona è la causa della rabbia. Ma ogni persona può essere un fattore scatenante per l'irritazione della rabbia che stimola un blocco al meridiano della vescica biliare. Questo meridiano ha infatti il fondamentale ruolo di approvvigionare energia per poter attivare i progetti. Gli individui quindi che presenteranno per costituzione biologica questo meridiano debole saranno passibili di due conflitti specifici. Uno è quello dell'indecisione, cioè il non sapere se attivare o meno i progetti. E la seconda è la rabbia. La rabbia esplode nel momento in cui recriminano il fatto che non sono stati sostenuti per la persecuzione dei propri progetti. Quindi si arrabbiano perché non c'è abbastanza amore caricato in passato dai loro genitori o da chi per loro, che potesse dare loro modo di affrontare e attivare questi progetti. Quindi maturano spesso delle ostilità nei confronti dei genitori, i quali vengono reputati e sbagliati nei comportamenti, soprattutto nei confronti del soggetto che soffre di rabbia. Oltretutto questo mix di indecisione e rabbia rende molto difficile i progetti da perseguire. Per progetti si intende anche la coppia o la famiglia, quindi le persone che somatizzano un conflitto della rabbia sono spesso minacciate di potersi separare con la coppia o che la famiglia possa essere distrutta da qualsiasi imprevisto. Per superare questo conflitto è utile sicuramente l'analisi percettiva per regredire nel passato e capire il periodo nel quale è stato somatizzato o registrato il conflitto di indecisione e rabbia. Dopodiché esercitare un feel per drenare sull'indirizzo specifico e lasciar fluire l'energia condensata del conflitto nel indirizzo specifico del corpo. Ed infine esercitare un lavaggio emozionale energetico per ripulire tutto il sistema emozionale, far difluire l'energia elettromagnetica, togliere le tensioni e ricaricare dai vari esaurimenti. Ma cosa più importante? Esercitare il processo di aggiornamento dando ciò che si chiede. Le persone che soffrono nella vescica biliare non si rendono conto che generalmente condividono il loro percorso di vita con soggetti molto simili a loro. Quindi cominciare a dare lo stesso sostegno che loro chiedono, fare complimenti, stare accanto alle persone, credere nei progetti insieme alle altre persone. Quindi per esempio smettere di lamentarsi dei propri genitori e cominciare a sostenere i genitori nei piccoli progetti quotidiani. Imparare quindi a rompere la catena dando lo stesso sostegno che ci si aspetta. Dimostrare quindi di aver messo coscienza, di aver introdotto un'informazione all'interno del nostro sistema, dimostrare di trascendere le situazioni e di aver esercitato un processo di aggiornamento evolutivo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento per il prossimo video.